È il terzo giorno che le ricerche in località Bosco Camerine ad Albanella e al confine con il comune di Castelcivita vanno avanti. Sulle indagini vige il massimo riservo, ma da questa mattina le ricerche sono riprese e le ruspe dei vigili del fuoco sono nuovamente al lavoro. Non si sa ancora di preciso cosa si sta cercando e nessun dettaglio sull'operazione è stato reso noto, nessuna nota stampa da parte della compagnia agropolese che molto probabilmente sarà fornita solo ad operazioni concluse. Da alcune indiscrezioni che sono trapelate in questi giorni però pare che i militari stiano cercando una persona scomparsa o più di una. Ricordiamo che molti anni fa nel comune di Albanella era nascosto nel suo bunker Raffaele Cutolo, fondatore nonché capo della nuova camorra organizzata. Questo potrebbe avere un legame con quello che si sta cercando. Un pentito avrebbe parlato, queste sono le voci che si rincorrono da tre giorni. Lo stesso pare abbia guidato agli inquirenti indicando il posto dove cercare. In questi giorni i militari stanno verificando se effettivamente queste rivelazioni sono attendibili e se davvero nei terreni località San Tommaso ci sia quanto testimoniato dal pentito. Grande dispiegamento di forze dell'ordine che da tre giorni stanno cercando senza sosta qualcosa o qualcuno. Sul posto anche due magistrati della direzione distrettuale antimafia di Salerno. Si attende dunque nelle prossime ore una svolta sulle indagini che i militari coordinati dal capitano della compagnia agropolese Fabio Lagarello con il supporto dei carabinieri della stazione di Capaccio e di altre caserme del territorio stanno portando avanti dallo scorso sabato 28 novembre.